non educhiamo i bambini ad amare la ricchezza ma ad essere felici così quando cresceranno sapranno riconoscere il valore delle cose non il prezzo finalmente ho capito una cosa le persone vere non devono dimostrare niente a nessuno lealtà, umiltà e sincerità parlano da sole non tutto quello che è pubblico è rivolto a qualcuno ma tutto quello che vi tocca si chiama coscienza sporca sai le persone invidiose sono come i rospi hanno grandi occhi per criticare gli altri è una lunga lingua per parlare di tutti però non si rendono conto di vivere nel fango io non odio persona alcuna ma vi sono uomini che io ho bisogno di vedere soltanto da lontano sai non è necessario colpire una persona per far male una parola fa male il silenzio fa male una mancanza fa male il disprezzo fa male l'indifferenza fa male quando una persona è bella se ne accorgono tutti ma quando è bella dentro se ne accorgono solo quelli che riescono a vedere oltre le apparenze ricorda sempre che che ti fa del male ti rende più forte che ti critica ti rende più importante che ti invidia ti rende grande la vita è un ciclo continuo sempre in movimento se i bei tempi passano passeranno anche in momenti difficili grazie mille per restare con just funny ci vediamo alla prossima con un nuovo video grazie restate bene